Sono contento della prestazione. Chiaramente è un anno che nei momenti decisivi la fortuna non ci ha mai dato una mano, però un'altra buona prestazione con una squadra forte che investivano devolmente al di sopra di noi. E quindi bene, i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo 1-0, ci hanno raggiunto, forse con un genitore. Siamo andati con il 2-1, un bellissimo gol. Quindi dai, io sono contento. Andiamo a guardare la nostra storia. Sì, al di là di quell'episodio finale, probabilmente l'errore della tua squadra inizia è stato quello di non chiudere la gara, avendone avuto la possibilità per più di una volta. Però forse a questo punto dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e dire che forse è una nostra caratteristica, perché domenica scorsa Mondorio e Cazzoni Midi non abbiamo segnato. Oggi al 3-6-7 abbiamo fatto solo due gol, quindi forse è il nostro limite. Non è che ce la possiamo prendere sempre con gli altri.